si può sapere dove eravate? dove eravate? io vado perchè tanto so cose vostre che non ho qual'asse eravamo? Danilo aspetta Danilo dove eravate? allora cominciamo dall'inizio lui si allontanava io l'ho visto che si allontanava e dall'orizzonte ed era diventato un piccolo cosiddetto è partito bandaggiato perchè non c'era già un piccolo cosiddetto prima che sparisse dall'orizzonte io l'ho seguito l'ho indivinato, l'ho peccato indovina dove stava? alla Caritas, non stava alla Caritas? si, stava lì a servire i pasti caldi alla certa corretta che non c'era nemmeno un affetto e allora io mi sono commosso l'ho aiutato e ho fatto darti adesso siamo qua che vede l'amore? si, io ho capito brava mica è capito che io non ho capito ho capito che mio padre è cambiato per davvero ed è diventato una bellissima persona brava, lei che non è eh? tu invece sei un crattino e perchè? puoi smettere di guidare mio padre almeno la sera di Natale, dai! ma che c'entra? non l'ho fatta apposta ma c'è lo sai che c'è? non ti voglio esistere Valentina! Valentina ma perchè te ne vai? dai la conosco, poi le basta tu la conosci l'avrei vista se no mi invita due o due volte l'hai conosciuta a parlatorio spiritoso grazie però almeno una cosa a mio favore